Sì, no, a noi ci dispiace perché è arrivata solo oggi, bisognava ascoltare anche l'associazione ex consiglieri e questo ci è un po' dispiaciuto di non averli ascoltati. Comunque ci è arrivata oggi l'informativa. Allora, bene, bene che la regione, noi siamo assolutamente favorevoli che si taglino i doppi vitalizi e ci dispiace che sia arrivato solo nel 2015 quando il Movimento 5 Stelle sta entrando in tutte le amministrazioni e gli enti pubblici. Comunque a noi ci va bene. Noi vogliamo fare di più, vogliamo in un momento di crisi generale del Paese, in un momento in cui la crisi economica sta riducendo le famiglie veramente all'osso e in un tempo in cui la politica dà parecchio spettacolo di scempio a livello di corruzione, di abuso di potere e di danaro. Ecco che ci viene da chiedere alla politica, dovrebbe essere la politica stessa ad autoridursi gli stipendi. Se chi governa naviga nella bambagia, chiaramente ai cittadini non è che diamo un buon esempio. Diceva un grande nostro Presidente, ai cittadini e ai giovani non servono i discorsi e i sermoni, ma servono degli esempi, degli esempi chiari, degli esempi di incorruttibilità, perché se no la società fatica a crescere su questi modelli. Si presentano altri modelli e poi ci lamentiamo perché avvengono delle storture. Va bene, basta. Ecco, no, la nostra proposta sarebbe quella di eliminare totalmente i vitalizi, perché abbiamo fatto una ricerca, allora quello che è stato versato da tutti i consiglieri regionali dal 1970 ad oggi è un importo che arriva a 7 milioni e 350 mila euro. Quindi potrebbe essere benissimo fattibile in un momento come questo andare a vedere quanto un singolo consigliere ha percepito in eccesso a quello che poi ha effettivamente versato. La questione legata poi ai diritti quesiti, vediamo che il Governo non si vergogna a tagliare i diritti quesiti dei cittadini e ci chiediamo perché la politica stenta a autoridursi questi diritti nell'ottica anche provvisoria, ma per carità anche provvisoria, riduciamoci gli stipendi proprio per dare un esempio anche al Paese. Bene, concludo il mio intervento e grazie a tutti.